A 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, Coalizione Clima e altre associazioni hanno partecipato alla marcia La Nostra Europa per ricordare che un'Europa migliore, più solidale e democratica è possibile, ma soltanto attraverso una vera lotta al cambiamento climatico. La coalizione Clima oggi è in piazza, ha aderito al corteo La Nostra Europa perché aria, acqua, terra, clima non hanno confini nazionali e per poterli difendere abbiamo bisogno di più Europa, certo, un'Europa dei cittadini, più democratica. Oggi è importante stare in piazza per dire che noi cittadini vogliamo più Europa. Noi di Lega Ambiente, noi ambientalisti sappiamo bene quanto l'Europa ha fatto bene sul fronte ambientale. Noi facciamo la raccolta differenziata, parliamo di car sharing, di economia circolare, anche grazie al fatto che l'Europa ci ha spinto con direttive su questo terreno. Quindi più Europa, ma un'Europa partecipata, non più chiusa nella paura, nell'egoismo della finanza e delle lobby di potere, ma invece un'Europa orgogliosa di costruire una nuova cittadinanza europea. Oggi in piazza con la coalizione La Nostra Europa c'è anche Greenpeace e tante associazioni ambientaliste, perché l'Europa che noi vogliamo, un'Europa migliore e anche un'Europa rinnovabile, un'Europa che eserciti di nuovo la sua leadership nei cambiamenti climatici, in un momento storico in cui si rischia anche il collasso degli accordi di Parigi con l'elezione di Donald Trump in America. Noi vogliamo un'Europa unita, democratica e solidale, come dice l'appello che abbiamo firmato insieme a altre organizzazioni, e vogliamo un'Europa rinnovabile, perché un'Europa che abbandoni i combustibili fossili è un'Europa dove c'è la pace, dove c'è la democrazia, in senso energetico e in ogni senso. La guerra è tentata di restare i futuri da qui, tentata di trovare nuovi paesi, di stabilire nuove vita, e siamo qui per accettare questo, perché vogliamo parlare di Europa, di futuri di Europa. Dobbiamo ridurre ogni tipo di nazionalità, di fronte, di politica, che si intende a bloccare le persone, di evitare le persone di move, di chiedere il posto di restare. Armino son baniate, dentro all'estallo da paz, e trasformate dentro del nudo